Niente divertimento, quello sano, quello sicuro per i prossimi due mesi. Le disposizioni governative infatti fissano la riapertura dei parchi divertimento e a tema, tra cui lo zoo safari di Fasano, al primo luglio. Una decisione che non uccide solo il divertimento già, ma anche un settore in drammatica sofferenza. Ed ecco spuntate sul web una petizione e anche una mara considerazione. L'Associazione Nazionale Parchi Divertimenti Italiani ha lanciato una petizione con il titolo No al primo luglio. Cosa vuol dire? Lo Stato ci ha dato la possibilità di riaprire i parchi divertimenti non prima del primo luglio. Decisione assurda, inconcepibile, in quanto noi parchi divertimenti garantiamo la sicurezza ai nostri visitatori perché è un'attività che si svolge frettamente all'aperto, in spazi enormi, vastissimi spazi. Possiamo garantire distanziamento tutto quanto quello che le procedure ci impongono. Noi come zoo safari di Fasanolandia abbiamo anche l'anno scorso rispettato a pieno tutte le procedure, i protocolli di sicurezza. Tanto è vero che l'anno scorso in piena pandemia non abbiamo avuto nessun contagiato tra i nostri dipendenti ma non abbiamo neanche avuto lamentele o segnalazioni di visitatori che si fossero contagiati nella nostra struttura. Ripeto, è inconcepibile che un parco divertimenti, io parlo adesso di Fasanolandia, vastissima, aria vastissima, dove siamo accorti e attenti a tutte quelle norme di sicurezza. Il nostro personale è stato formato e addestrato a garantire la sicurezza ai nostri visitatori.